Oggi facciamo le parole crociate insieme al mio amico Thomas. Uomo munito di sci. Cosa può essere uomo munito di sci? Sci munito. E sono due, sono due sci muniti. E' famoso quello di Troia. Cosa può essere famoso quello di Troia? Gatto non è. Cane non è. Forse cavallo. Cavallo non è. Allora è figlio. Vincenzo Papaleo.